Facciamo un grande applauso! Allora, lei è pugliese come noi. Un grande applauso! Con orgoglio! Con orgoglio. Che ne pensa quando arriva in Puglia? Vi posso garantire che il calore pugliese, ma in generale del sud, è diverso da quello del nord. Grazie, grazie. Un attimo che glielo faccio dire al microfono. Allora, sono orgoglioso di essere meridionale. Il calore dei meridionali è qualcosa di spettacolare. E non ha ancora visto quello che mangerà? Ah beh, allora sì. Vi ringrazio a tutti. Buona giornata! Un grande applauso al nostro concittadino pugliese! Grazie!